Beh, ho passato questo tipo di sentimento molte volte nella mia carriera raccoglietta, quindi è speciale perché l'auto che sto cercando di testare è un'auto speciale. L'ultima volta che ero nel coppito di una carriera raccoglietta era nel 2009, per la ultima raccoglietta della WTT TCC in Macao. Beh, l'impressione overall del DTM è che il DTM è molto competitivo, il livello dei motori è molto alto, credo che alcuni di questi ragazzi potrebbero competere in Formula 1 ed è molto bene, e le carri sono veramente incredibili, belle macchine. Per sentire nel coppito per i motori ha dovuto essere fantastico, perché ora in termini di performance, in termini di feel, quando fai una carriera raccoglietta, questo è probabilmente solo un passo dietro della Formula 1, e nel mio pensiero non posso pensare di una buona carriera raccoglietta che questa carriera per i motori dopo la Formula 1. è una buona carriera raccoglietta, e nel mio pensiero non posso pensare di una buona carriera raccoglietta, e nel mio pensiero non posso pensare di una buona carriera raccoglietta. è la buona carriera raccoglietta, e nel mio pensiero non posso pensare di una buona carriera raccoglietta.